Sindaco, accanto alla questura di Pordenone c'è un edificio nascosto dalla vegetazione. Può dirci quali sono i progetti a riguardo? Questo è un edificio storico per Pordenone, l'ex birreria è di proprietà comunale, ma nessuno aveva mai ragionato come potesse in qualche maniera essere riqualificato e dargli una destinazione che avesse una certa utilità. Si tratta di autentica archeologia industriale. Noi abbiamo ricevuto un finanziamento da 7 milioni di euro che ci consentirà di trasformare l'ex birreria in un luogo di formazione. A Pordenone abbiamo un'eccellenza che forse pochi conoscono, che si chiama ITS, Istituto Tecnico Superiore. Si tratta di una scuola di formazione di due anni successiva al diploma, quindi i ragazzi che si diplomano possono frequentare questi corsi. È un'eccellenza perché il 100% di chi frequenta questi corsi e diventa un cosiddetto superperito ha già un posto di lavoro prima di terminare il corso formativo. Attualmente l'ITS non ha una sede, è ospitato al consorzio universitario, ma occupa degli spazi che servono invece all'Università di Pordenone. Quindi avrà una sede non solo dignitosa e bellissima, e attrezzata secondo ovviamente quelle che sono le indicazioni di ITS stesso, una struttura che potrà attirare anche altri studenti, ricordiamo che è frequentato anche da molte persone da fuori provincia, potrà creare quei profili professionali che le imprese stanno richiedendo in questo momento, consentirà una collaborazione effettiva e una compartecipazione dalle imprese alle spese, libererà gli spazi all'interno del corso formativo universitario, in più all'interno di quella struttura che ha tanto volume, creeremo anche una foresteria che potrà essere utilizzata tanto dai docenti quanto dagli studenti, in modo tale da poter dare loro una risposta abitativa ad un prezzo assolutamente calmerato. Grazie. 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 Grazie.